Salve a tutti cari amici di EvoSmart.it, bentornati in nostra compagnia. Quest'oggi andiamo a vedere quelli che sono, secondo noi, i migliori smartphone sotto i 300€ per quanto riguarda maggio 2019. Ci sono alcuni smartphone che rientrano nella classifica in base ai vostri commenti, altri li riproponiamo, perché su questa fascia di prezzo non è uscito granché in questo mese, mentre sulla fascia di prezzo sotto i 500€ e i top di gamma ci sono sicuramente prodotti interessanti. Detto questo, ragazzi, come sempre per supportare la nostra rubrica vi ricordo di schiacciare il tasto like, di condividere il video, ma soprattutto di iscrivervi al canale YouTube se ancora non l'aveste fatto. E allora lanciamo subito la nostra sigla! Beh, allora andiamo subito a prendere la lista che la nostra Veronica ha creato per voi sul sito. Troverete qua sotto, come sempre, il link in descrizione per l'articolo completo. Allora, su richiesta, ovvero gli smartphone che secondo voi rientrano in questa classifica, abbiamo per questo mese Galaxy A40 e Galaxy A50. Assolutamente d'accordo con voi, soprattutto A50, davvero un prodotto che mi ha stupito per l'elevato rapporto qualità-prezzo. Sempre su richiesta abbiamo LG G7 Team Q. Io onestamente non l'avrei messo in classifica, ma perché vi dico questo? Perché comunque LG ha portato anche LG V30 a scendere molto di prezzo. Si trova abbondantemente sotto i 300€ su Amazon, quindi creo la coppia, no? Io vi metto il V30, voi mettete l'LG G7 Team Q. Quindi comunque sia due prodotti interessanti che, a mio avviso, non hanno fatto breccia nel mio cuore. Quindi non mi sono piaciuti come smartphone, ma ovviamente si rispettano le scelte di tutti. E poi, sempre su richiesta, visto che cala di prezzo nei mesi, abbiamo Huawei P20. P20 che all'epoca, quindi P20 o P20 Pro, è passato un po' in secondo piano, no? Come anche P30, P30 Pro, il P30, quindi la serie non Pro, sono sempre quelli smartphone che vengono messi da parte. Mate 20 Pro, Mate 20, ma avete visto anche come nel video di Tech Ticino, anzi vi ricordo che Jonathan ha aperto un codice sconto per noi dedicato. Wearz86 risparmiate 5€. Quel dispositivo, in particolare il Mate 20, secondo me era ben bilanciato. Veramente un prodotto interessante. Anche P20, con il calo dei prezzi, diventa un prodotto interessante, assolutamente. E rientra in questa top. E poi voglio mettere un padellone. E voglio mettere, secondo me, uno dei migliori padelloni che mai abbiamo provato su questo canale YouTube. Perché ottima autonomia, ottimo display, ottimo processore Qualcomm. Sto parlando assolutamente dello Xiaomi Mi Max 3. Non ha bisogno di presentazione, ragazzi. Se cercate un prodotto del genere, dovete per forza acquistare quello smartphone, barra phablet. Quindi un telefono che fa veramente tutto. All'occorrenza da tablet, all'occorrenza da smartphone. Ci fate davvero tutto. Poi con quel processore, quindi il Qualcomm Snapdragon, davvero gira veramente, veramente bene. Visto che parliamo di Xiaomi, inseriamo Pocophone F1. Perché comunque Snap 845 sotto i 300€ ad oggi non si trova. Ma attenzione perché, secondo me, uno dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo, equilibrio, hardware-software, ma soprattutto prestazioni e anche fotocamera, è, secondo me, lo Xiaomi Mi 9 SE. Avete bisogno di presentazioni anche su questo smartphone? Secondo me no. C'è la recensione completa, ci sono i Versus. Anche qua, un prodotto, secondo me, davvero consigliato. A chi soprattutto cerca quello smartphone compatto, ma con le caratteristiche hardware potenti, quindi non ho problemi a svuotare multitasking perché mi si blocca il telefono, voglio una fotocamera performante, voglio un'ottima batteria, voglio comunque un software completo. Cioè Mi 9 SE, secondo noi, è un best sotto i 300€. Ovvio che il mercato lo dà a filo, quindi stiamo parlando anche di smartphone borderline. Come sempre, inseriamo anche sui 330€, perché ho 30€, magari risparmiate qualcosina, lo comprate dopo un paio di settimane, ma riuscite comunque a portarvi a casa un ottimo, ottimo dispositivo. E poi ci sono quegli smartphone della serie Honor Bar Huawei. Quindi inseriamo Honor View 10 Lite, secondo me un prodotto molto, molto interessante. E inseriamo anche l'Honor 20 Lite, nuovo dispositivo uscito adesso, non l'ho ancora testato, ma me ne avete parlato veramente bene, 128GB di storage interno, il classico stile Honor, quindi molto giovanile, molto fresco, di conseguenza inseriamo anche lui all'interno della top, affiancandola all'Honor 10, che è ancora un prodotto interessante, vedremo Honor 20 Pro e 20 standard direttamente a Londra martedì prossimo, quindi il 21 di maggio, e poi inseriamo anche Mate 20 Lite. Nokia 7.1 e Nokia 7 Plus sono i miei smartphone preferiti con Android One a bordo su questa fascia di prezzo, e poi inserisco anche sotto una vostra richiesta, ma ci sta assolutamente, Sony Xperia XZ1, ancora ad oggi un prodotto vivo, attivo, comunque sia aggiornato nel tempo, questo è un Plus, un Pro che Sony inserisce nei propri smartphone, visto che aggiorna i propri dispositivi anche nel tempo, ottima questa cosa sicuramente anche per quanto riguarda la sicurezza in base alle patch. Quindi questi sono gli smartphone sotto i 300€, vi ricordo come sempre di farci sapere i vostri smartphone preferiti qua sotto nel box dei commenti, e attenzione ai top sotto i 500€, perché lì veramente ci sono delle belle new end, e poi nei top sappiamo bene che è uscito OnePlus 7 Pro in questi giorni. Ragazzi come sempre tutto lo staff di EvoSmart.it anche per questo video vi ringrazia, vi saluta e ci sentiamo nei prossimi video!